Inter spezia termina 2 a 0 per l'Inter questa partita di serie A di oggi 1 dicembre 2021 l'Inter va a coronare un sogno, va a coronare una chiamiamola importante partita per lui e riesce a vincere due gol messi in cassetto al sicuro dove l'Inter sfoglierà veramente le sue armi belle, le sue armi più elevate azzardo a dire principali, dunque una coppia di gol meravigliosa che segna veramente grandi emozioni a segnare è stato Roberto Gagliardini al 36esimo minuto di gioco del primo tempo e il secondo gol al secondo tempo al 58esimo minuto di gioco di Lautaro Martinez vi ricordo su calcio di rigore due gol ripeto nuovamente, meravigliosi, stupendi, fantastici che hanno veramente segnato la partita e che hanno portato l'Inter alla vittoria i nerazzurri riescono nella partita, lo spezia lo vedo un po' giù distante e nonostante il valido impegno che mette in campo e nel primo e nel secondo tempo il risultato non lo premia detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua iscrivetevi al canale Narratore Italiano